buongiorno a tutti eccoci qua per la seconda parte del come si pronunciano le marche italiane oggi parleremo delle marche dell'alta moda italiana famose in tutto il mondo parleremo, we will talk about the fashion, high fashion, Italian luxury brands ma dobbiamo imparare a pronunciarle bene ecco ho trovato una marietta molto simpatica a nice t-shirt I speak fluent Italian parlo italiano fluentemente Gucci Prada Fendi Versace attenzione sento molto dire Versace Rosace no si dice Versace abbiamo poi altre marche come Giorgio Armani eccolo qui Giorgio Armani ripetete dopo di me Giorgio Armani Valentino Bottega Veneta Bottega Bottega è con due t e bisogna pronunciarle bottega Moschino S-H-I è hard sound Moschino Roberto Cavalli doppia L Cavalli Missoni Missoni doppia S Missoni Fila la marca sportiva now the question is what is your favorite brand qual è la vostra marca preferita la mia marca preferita è probabilmente Prada ma mi piacciono anche altre marche potrei dire le mie marche preferite sono Prada Armani Valentino e forse Dolce Gabbana e le vostre quali sono? se vi è piaciuto questo video mettete un like per favore share the video with your friends and put some comment here and see you next time arrivederci alla prossima volta ciao Grazie a tutti